ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di storie di batteristi ciao bentornati marco il numero uno come al solito numero uno dei bocciati vedi che sta imparando vedi che ha forza di studiare io prendo diplomi su diplomi la laurea d'onore terzo dan cittura nera di bocciature e allora oggi facciamo una introduciamo una novità tecnica a drumstart perché effettivamente potrebbe essere una cosa carina allora per tutti quelli che sono iscritti alla community su facebook post diciamo che è gratuita lo ribadiamo sempre facciamo in diretta la registrazione di questa puntata quindi in verità noi stiamo registrando il video come facciamo sempre chiacchieriamo del batterista di turno in questione però nel mentre nel mentre dato che la community prima era una community di pochissime persone eravamo 20 persone insomma era giusto le persone della scuola invece adesso si sta allargando siamo più di 180 e quindi ho detto vabbè allora facciamo così creiamo un qualcosa facciamo storie di batteristi facciamo interagire chi può seguirci il più possibile e anche le persone che ci seguono se qualcuno ci fa domande in diretta o magari qualcuno sa qualcosa in più di quello che diciamo noi ce lo può dire lo facciamo con la community adesso vediamo come ottimizzare questa cosa adesso siamo un po' arrabbattati è la prima volta potrebbe esserci qualche inconveniente tecnico diciamo sta trasmettendo in diretta sulla community drumstart e in più non stiamo registrando la community drumstart e allora oggi oggi il batterista siamo in ritardissimo siamo in ritardi perché io per due settimane sono stato senza voce quindi non potevo parlare settimane non si potevano sentire le fregnacce che dico e come avevamo detto oggi parliamo di lo dico con l'accento americano 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 jeffrey thomas porcaro porcaro credo che non so se si pronuncia credo sia vogliamo fare internazionale se sa che va bene quindi facciamo quindi jeff porcaro si e è uno forse dei più stimati apprezzati e cose batteristi a livello planetario infatti ogni tanto a me viene qualcuno qua all'ezione e mi dice senti mi insegni a fare rosanna che tutti qua capito come ed è talmente famosa è un'icona è un'icona jeff porcaro è un'icona diventato un'icona degli anni ottanti proprio un'icona della musica degli anni ottanti a parte di toto che comunque è un gruppo della madonna insomma eccetera eccetera ma comunque lui proprio come personaggio carisma particolare proprio una persona una persona con carisma quella è la parola giusta proprio un musicista particolarissimo dal punto di vista musicale ok e però anche un personaggio gagliardo si direbbe a Roma e quindi vediamo un po' la storia di Jeff Porcaro allora Jeff Porcaro è nato a Hartford nello stato del Connecticut ah quindi sopra New York sì ok 1954 bene quindi già ci avrebbe avuto è morto nel 92 ok quindi avrebbe avuto 54 63 anni 60 e qualche cosa 62 64 insomma qualche cosa ha origini italiane anche dal cognome si poteva facilmente intuire abbastanza evidente che aveva i nonni calabresi di San Luca i nonni erano di San Luca in Calabria comunque tutti italiani questi qui più so forti e più so italiani lui è nato da una famiglia di il padre era un musicista un percussionista Gio Porcaro quindi lo ha introdotto in maniera naturale alla musica prima di tutto e poi Jeff ha scelto lui di avvicinarsi alla batteria però chiaramente la prima impronta gliela ha data il padre giustamente che è stato anche il suo primo insegnante ah quindi lui prendeva lezioni a 6 anni le prime lezioni a 6 anni il padre gli ha cominciato a dare le prime nozioni sia di teoria musicale che di batteria insieme ai fratelli insieme ai due dei quali faranno parte anche dei Toto per un periodo insomma suonerà anche insieme ai fratelli nei Toto ok e era cioè Jeff parla spesso in alcune interviste che era una tradizione per loro tutte le domeniche rigorosamente si andava al negozio di musica della zona e il padre dava lezioni a chiunque volesse ascoltare si metteva lì dietro la batteria dava lezioni in questo negozio di musica ammazza figa Jeff era una presenza fissa insieme ai fratelli ed era proprio una tradizione di famiglia bomba quindi lui ha iniziato così il padre gli ha regalato la sua prima batteria che era una Slingerland Sparkle Slingerland sì Slingerland all'epoca era famosissima e è diventato semplicemente un'icona degli anni 80 tra i batteristi apprezzato soprattutto per il suo gusto musicale lui ha una tecnica particolare soprattutto poi ne parleremo in maniera più approfondita per le ghost note diciamo per le ghost note sia di rullante che di charleston particolari suoni abbastanza ricercato nel suono nel suo periodo di massima polarità arrivò a essere chiamato Mr. Shuffle perché il suo suono praticamente unico quasi irripetibile beh il suo suono è anche il suo il suo come si dice portamento nel senso perché lo shuffle ovviamente diciamo è è questo stile musicale che matematicamente si diciamo nella forma musicale intesa come nella forma musicale intesa come struttura ritmica eccetera è quello stile dove noi pensiamo a quattro quarti suddiviso in sestine e tutte terzine di sedicesimi esatto e in tutte le terzine ma anche il secondo colpo quello è lo shuffle ok quindi tecnicamente quando uno pensa allo shuffle pensa a questa figura ritmica però in verità shuffle vuol dire anche cioè è anche un modo come tutti quanti gli sei come quando dici bossa nova bisogna vedere anche come lo porti tu come lo esprimi lui non solo faceva lo shuffle corretto nel senso che dava i colpi giusti la terzina eccetera ma era proprio il modo in cui lui portava il shuffle perché lui aveva un groove shuffle della madonna cioè proprio particolare e la canzone la canzone rosanna che è l'emblema del suo stile è proprio come ti posso dire è proprio una è una pietra miliare di tutti i batteristi per proprio di ascolto eccetera quando ormai è diventata iconica cioè com'è lo shuffle guarda ascolta sta canzone e hai capito com'è lo shuffle fondamentalmente ascolta non suona perché suona è impossibile come lo suonava lui però diciamo che c'è questa cosa e faccio una parentesi la figata di Jeff Porcaro è proprio quella cioè il fatto che lui non solo è ovvio c'ha il groove c'ha questo portamento particolare ma la cosa interessante di Jeff Porcaro è che groove lo diciamo sempre significa anche equilibrio non solo faccio la cosa nel time ma il groove è quando si fonde il fatto che vai con un tuo andamento bilanciando bilanciando le dinamiche ok con le dinamiche giuste allora quello è groove anche nelle interviste delle dinamiche certo cioè nel senso la cosa importante è Jeff Porcaro è il suo groove ok però groove che vuol dire come dice groove è il modo in cui porti il ritmo di una cosa nell'equilibrio che c'è tra secondo me tra ritmo e dinamiche ok quindi se quello è e per quello si dice che Jeff Porcaro è unico per altre cose Steve Gadd è unico è perché il loro modo di equilibrare il loro il modo in cui un musicista di questi pensa all'equilibrio musicale è l'equilibrio tra il timing il modo di portare questo timing e le dinamiche dei colpi proprio questo è il groove e per questo è insostituibile lo fa cioè così in quel modo lo fa solo lui ha un modo di portare il tempo lo shuffle che è praticamente irripetibile perché è talmente personale che anche se uno lo rifacesse uguale non suonerebbe mai alla stessa maniera no perché ogni persona penso che no ma anche che questo non significa che uno non può arrivare a suonare bene lo shuffle anche perché se no Simon Phillips che adesso suona con i toto gli dovrebbero dire no ciccio mi dispiace non puoi suonare con noi perché Jeff faceva lo shuffle no invece Simon Phillips uguale fa uno shuffle della madonna ma che interpreterà porterà il groove il bilanciamento delle cose sicuramente studiando come faceva anche Jeff Porcaro a modo suo ovviamente quindi ognuno ha il suo modo perché viene fuori la personalità quello che hai studiato eccetera eccetera e che dirti tra i suoi batteristi di riferimento da adolescente c'era Buddy Rich John Bonham Kate Moon Bernard Purti poi ne parla spesso di questo Bernard Purti che l'ha molto influenzato diciamo lui tra le sue prime esperienze musicali c'è il gruppo Rural Still Life che ci fa ancora da molto giovane la sua carriera comincia a prendere forma nel 72 più o meno quando con la band che si chiama Dautery accompagna un duo di cabarettisti che si chiamavano Sonia and Cher che in alcuni show televisivi questi erano un duo di insomma classico cabaret facevano recitazione comicità suonavano ballavano e questa band questi Dautery accompagnava questi due cabarettisti e lì comincia ad avere un certo successo il suono come comincia a girare da quel momento nel 73 ancora di più comincia a salire di livello perché suona con gli Stily Den una band abbastanza importante in cui lui spesso ne parla in maniera entusiasta di questo gruppo che è un gruppo che mischia un po' un po' di tutto se vogliamo perché io l'ho sentito e non so dare c'hanno quattro generi diversi un po' di rock un po' di jazz un po' di soul però ancora non è strutturato come nei Toto poi chiaramente con i Toto avrà un salto definitivo di qualità però è una band di grande valore questi Stily Den e voglio citare proprio un album molto riuscito di questi Stily Den che è Cat Lied 75 lui ha una ventina d'anni 20-21 anni registra questo album che ha un buon successo e lì la sua popularità comincia veramente a crescere a crescere tanto al punto che non dovrà abbandonare gli studi perché non non riesce a mantenere gli impegni con i gruppi musicali quindi abbandona gli studi di scuola per dedicarsi completamente alla musica nel siamo nel 75 76 durante una sua tournée con Bods Kegs incontra i musicisti che poi faranno parte dei Toto cioè durante questa tournée decidono insieme agli altri musicisti di mettere insieme una band completamente nuova chiamandola Toto il chitarrista di Toto dirà che non è mai stato particolarmente entusiasta del nome non è che gli piaceva tanto però ormai era quello ormai era quello era andato vada per Toto con i Toto esplode chiaramente registra 8 album 4 8 album in studio 4 album live e un album colonna sonora del film Dune che non conosco sinceramente ma lo sai che invece io mi sa che lo sinceramente non so di che film si tratti devo andare a vedere però forse so di cosa si parla il primo album è un album debutto Toto 1978 vende quasi 2 milioni di copie così primo album così perché sono tutti musicisti fenomenali pazzeschi no ma poi sai guarda il fatto che spesso e volentieri una cosa che uno sulla quale non si riflette mai soprattutto le persone poche spie è che tu devi pensare che un musicista bravo che già lavora in un gruppo importante magari se si sposta e fa un album con un'altra band tutte le persone che erano fan della band precedente comunque vengono a sapere che questo ha fatto una collaborazione con quello una collaborazione con quell'altro eccetera eccetera e quindi si interessano di riflesso anche al nuovo progetto dico per dire io quando Portnoy ha lasciato i Dream Theater ok ormai sono passati già anni sono passati nel 2010 era quindi già sono passati quasi dieci anni ok e poi si è messo a fare altri progetti io ho scoperto i progetti che lui ha fatto questi nuovi Winnery Dogs cioè questi gruppi io li ho scoperti non perché già conoscevo quei musicisti lì ma perché ho seguito Portnoy sapendo che è un batterista col quale io sono affezionato perché è quel batterista che mi ha colpito la prima volta che l'ho sentito e per il quale io poi ho deciso voglio imparare a vedere la batteria suonare la batteria eccetera eccetera quindi in verità tu pensa gruppi già famosi che già girano che già hanno un loro seguito creano una nuova band magari inserendo Liquid Tension adesso parliamo di Portnoy Liquid Tension allora Jordan Rudess non lavorava con Portnoy all'epoca nei Dream Theater quando nel 98 97 hanno fatto Liquid Tension però dopo quello ha suonato nel Liquid Tension con Tony Levin e John Petrucci e Mike Portnoy Tony Levin e Jordan Rudess non erano dei Dream Theater poi Jordan Rudess è stato assorbito nei Dream Theater quindi tutti questi meccanismi io sono sicuro che tutte le persone che prima seguivano Jordan Rudess poi sono magari diventate anche fan dei Dream Theater dopo capito come cioè roba del genere quindi quando ci sono questi melange queste queste unioni tra band tra gruppi elementi di band eccetera è ovvio che è più facile se crei una super band cioè gente già conosciuta eccetera è anche molto più veloce l'esplosione magari magari fa cagare nessuno però in verità fanno roba buona come è probabile che uno fa poi alla fine è più semplice vendere più dischi riuscire perché già hai una serie di canali preparati ovviamente questo è quello che succede con le collaborazioni insomma tra artisti spesso e volentieri le collaborazioni si fanno per quel motivo tu guarda cado in basso no non cadere in basso Fedez e Jax però sono stati intelligenti perché nel momento di esplosione di Fedez Jax che probabilmente aveva già un suo pubblico una cosa si sono uniti e quindi hanno fatto un pubblico ancora più grande loro nello specifico dal punto di vista commerciale sono bestiali difficilmente sbagliano no 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 ci azzeccano e come e sto parlando cioè nel senso lo sai perché dico una pesa perché adesso ho fatto un esempio forzato però in effetti è vero rende l'idea rende l'idea perché se adesso parlavo però per far capire anche un esempio di gente magari uno non penserebbe mai a dire io suonare la batteria con Jax io francamente sì nel senso che se capita di un concerto con Jax ma è divertente ma tu pensa suonare le canzoni dell'articolo 31 tu suonare l'adolescenza ma no volume la mia ragazza cioè porca miseria guarda che so canzoni fighissime in verità italiane però hanno un ritmo tira un sacco di pubblico capito e quindi quindi francamente l'idea di unire queste sono sono sempre spesso e volentieri sono delle ottime sono delle ottime soluzioni sia di marketing ma anche perché comunque poi unisci anche i talenti cioè se hai gente che ha riuscito a fare qualcosa se la metti in un'altra probabilmente porta un contributo alto insomma capito come apro e chiudo la parentesi di marketing però era figo allora voglio citare la canzone hold the line dal primo album hold the line famosissima la conoscono anche i muri ti boccerò ti boccerò questa è la più famosa diciamo di quel primo album però è è solo l'inizio chiaramente una scesa pazzesca e i Toto diventeranno la band forse più iconica degli anni 80 beh sì tra le sì sì assolutamente perché registrano questi otto album hanno fatto Africa sì quello nel loro quarto album Toto 4 sono molto cioè la figata dei Toto è vero il groove la cosa ma porca miseria hanno delle melodie pazzesche sì sì perché non è mischiano generi tanti generi diversi mischiati in una maniera eccelsa secondo me ma poi tu ecco pensa ai pattern pensa a Africa porca miseria te la ricordi per forza cioè te la ricordi per forza non è possibile che non te la ricordi come All The Line cioè questi dialoghi che ci sta tra sezione ritmica e sezione melodica ok perché vi so cioè queste botte rimangono in testa non c'è niente da fare capito come cioè rimangono in testa All The Line è diventata ancora più famosa perché è entrata nella colonna sono andato in videogioco come no GTA quindi anche i ragazzini più giovani la sanno la conoscono sì 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 no Africa dicevo è contenuto nel quarto album che è forse il maggiore successo commerciale dei Toto sì perché l'album più figo è raro che sia il primo sempre dopo due tre album poi c'è il decollo vero capito e lì ci stanno pezzi come appunto Africa Rosanna Make Believe che sono diventati pezzi iconici del gruppo dall'82 al 92 fa altri dischi continua a collaborare non solo con i Toto chiaramente collabora con artisti enormi Jeff Porcaro diventa uno dei turnisti più pagati della West Coast della costa ovest degli Stati Uniti per citarne qualcuno di Elton John David Gilmour Paul McCartney Madonna ha registrato pezzi con i Bee Gees con Michael Jackson ma costa ovest o costa est West Coast perché West sarebbe dalla parte di Los Agnele o la parte di New York ah sì perché avevo dimenticato di dire la West Coast perché a una certa la famiglia di Jeff questo avevo dimenticato di dire la famiglia di Jeff Porcaro si trasferisce a Los Angeles ah a Los Agnele quando lui è adolescente sì sì perché per seguire i progetti del padre che doveva suonare città allucinante Los Agnele Los Angeles io sono stato qualche anno fa nel 2012 sono stato in tour a Los Angeles mi faccio a Los Angeles San Francisco poi siamo andati insomma tutta quella zona abbiamo visto Beverly Hills e lì raga c'è una situazione musicale paradossale cioè io mi ricordo io stavo in orchestra ma ti giuro c'avevo il tizio che mi portava l'acqua io avevo i timpani c'era uno deputato a portarmi l'acqua e veniva pagato per portare l'acqua stipendiato per portare l'acqua al percussionista perché io siamo in orchestra noi abbiamo portato era un progetto italiano con un'orchestra sinfonica e portavamo abbiamo portato Rigoletto ok porca miseria questo era non hai capito l'università c'ha un auditorium tu immagini che l'auditorium di questa università di Orange County da quelle parti è come la sala Santa Cecilia l'auditorium era come la sala Santa Cecilia qui da noi è una zona molto ricca dell'auditorio madonna mia ragazzi che posti pazzesco quindi e infatti un sacco di musicisti a un certo punto pigliano e si spostano lì è uno dei cellini nevralgici musicali 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 oppure la tecnologia pure perché lì c'è la Silicon Valley da quelle parti e quindi sta tutto là insomma e quindi lui si sposta a Losagne si da adolescente per questo parlavo della West Coast dicevo vanta queste enormi collaborazioni fino al 92 quando nel mese di agosto muore a causa di un arresto cardiaco nel giardino di casa qui c'è una piccola leggenda metropolitana perché si dice Jeff è morto proprio mentre stava spruzzando del pesticida sulle piante di casa sul tuo giardino di casa ha avuto un mancamento e è crollato lì si pensava che fosse un avvelenamento anzi è stata proprio data la notizia inizialmente che era morto per avvelenamento da pesticidi invece no è stato un infarto ma lui se non sbaglio fumava un botto i medici hanno detto che il motivo principale sono stato proprio il fumo perché lui fumava tantissimo da molto giovane ha iniziato più qualche altro vizietto preso negli anni in tourne coi Toto che insomma non è che l'onda roto non è mai tanto sana e quindi quello è stato sostanzialmente si no purtroppo è vero in quegli anni c'era un po' questo fatto che era un gioco degli eccessi ma anche prima in verità c'era un po' questo gioco degli eccessi cioè questi musicisti ovviamente facevano una vita stressante non tutti reagiscono a questa popolarità a questa cosa e soprattutto quella è una band mondiale quindi non è gente che fa il tour in Italia quella è gente che gira il mondo e riempie i teatri gli stadi in tutto il mondo quindi stiamo parlando di gente che è sottoposta anche a uno stress io nel mio piccolissimo vedendo gli artisti famosi con i quali ogni tanto mi capita di collaborare io dentro di me ci penso io non so se sarei capace di resistere allo stress di essere comunque così conosciuto famoso e gestire infatti ci stanno dei personaggi in Italia per esempio Caparezza che io stimo un botto in un'intervista non mi ricordo dove ho visto e lui dice proprio quando sto in tour che faccio le date una pressa all'altra io sono un soldato cioè mangia verdure acqua non beve non fuma non fa perché in quel modo riesci ad avere fisicamente reggi sei molto con te sei diciamo hai una tua routine giornaliera per resistere allo stress eccetera e non ti danneggi invece io lo vedo io per esempio non bevo mai mai io non bevo vino a casa non ce l'ho non bevo birra non me la compro proprio non è che stasera esco da qua e vado a bere la birra no a meno che non esco una volta ogni tanto quando sto in tour quando sto in tour complice il fatto che stai con gli altri musicisti se facciamo cinque serate cinque sere a bere la birra la sera perché è un modo per stare insieme anche per scaricare un po' la tensione dopo il concerto comunque fai il concerto finito il concerto camerini si bevono oppure passi in albergo fai una doccia poi dici vabbè ragà prima di andare a dormire che ne so è mezzanotte vogliamo andare al bar qua vicino al pub di solito ci stanno questi pub nelle città insomma e ci beviamo una birra non è che ti embriaghi ti bevi una birra però la bevi io che non la bevo mai e comunque io passo da zero a una quindi praticamente è il cento per cento in più di quello che di solito bevo e poi a quattro cinque sere di fila lo fai e quindi vedi già e non ti fa niente una birra e comunque lo fai e comunque lo fai uno che non lo fa comunque lo fa quindi figurati quando diventi pensa che già lo fa ecco capito come cioè nel senso bisogna è molto io mi rendo conto e insomma mi rendo conto di quanto è complicato resistere a perché poi comunque ti fa anche piacere non è che vai lì per ubriacarti però ti fa piacere stai con gli altri musicisti dici quattro stronzati cioè capisci come è un modo per rilassarti e per stare insieme non hai fatto niente di male ti sei bevuto una birra due euro però però dipende dalla birra poi insomma due euro no io peraltro saluto un mio carissimo amico Luca Amendola che mi ha fatto diventare esperto di birre artigianali così quindi il mio essere esperto di birre artigianali che cos'è? vuol dire che lui sceglie e io bevo quello che dice lui però effettivamente però effettivamente sono esperto bevo solo birre buone vabbè quello si fa anche più bene fa anche meno male oh aspetta ho detto una cosa che non c'entra niente però lo dico perché dato che ho scoperto che alcune delle persone che seguono questa canale questo canale in verità non sono tutti batteristi molti sono bassisti cioè molti pochi pochi rispetto ai batteri però c'è ragazzi questo mio carissimo amico che peraltro sta suonando dove guardo di qua ormai non so più dove guardare questo mio grandissimo amico che è un un ottimo bassista ha iniziato a fare lezioni di basso e dato che in passato mi scrivevate sul qui sulla community e mi dicevate ma c'è un bassista che tu conosci che ci vuoi consigliare da oggi a Roma Luca Amendola da oggi da ieri in verità ha ricominciato perché c'ha avuto un po' di problemi col trasloco c'ha avuto ha insegna basso ed è bravissimo e soprattutto lui incentra molto il suo lavoro sulla sua didattica è una cosa molto importante che non c'entra niente con Jeff Forcaro però lo dico sul sound e non è una cosa così scontata perché tutti stanno sempre a pensare alla tecnica invece lui dice che una cosa importante è il suono capito come quindi vabbè l'ho detto perché adesso ho citato Luca per le birre però dicevo poveraccio Jeff Forcaro in verità è molto probabile che sia morto per infarto cioè hanno dovuto le arterie ostruite i medici ipertensione quindi io consiglio per i giovani ragazzi purtroppo la maggior parte degli esempi che abbiamo di personaggi famosi moltissimi sono morti pur facendo parte di gruppi incredibili eccetera per gli stravizi quindi se posso dare un consiglio a tutti quanti io conteniamoci cioè quando si fa la vita del musicista non vuol dire necessariamente solo sesso droga e rock e roll vuol dire anche fare una vita normale organizzata sana e suonare perché ti piace suonare perché è la tua professione la tua passione non bisogna commettere l'errore di fare il connubio che se sei un musicista automaticamente ha anche delle cattive abitudini a volte collaboro con delle band cover tributi eccetera e ci sta sta gente che magari molti non sono professionisti e associano il fatto di andare a suonare che si devono ubriacare secondo me è sbagliato secondo me è sbagliato secondo me è sbagliato quindi Jeff Porcaro una delle cose che ci insegna è che comunque lui è morto giovane 92 quindi 54 64 64 64 94 neanche 40 anni hai capito come 38 cioè morire io all'età mia perché mi ammazzavo di sigarette insomma non è proprio il top capito come cioè nel senso ecco un messaggio importante per tutti quanti musica rock funk quello che volete live tournè in giro per il mondo non significa necessariamente vita sregolata insomma ecco lo dico soprattutto per i più giovani quindi i Toto hanno continuato dopo all'inizio voleva sciogliersi la band dopo la morte di Jeff Porcaro però hanno deciso di continuare con l'unico batterista che proprio a detta di Jeff Porcaro avrebbe potuto sostituirlo cioè Simon Phillips ah quindi è stato Jeff Porcaro a suggerire sì 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 prima della sua morte ha detto l'unico batterista da cui mi farei sostituire io è proprio Simon Phillips sì beh in effetti Simon Phillips comunque in quel periodo era cioè era in un momento di lancio giovane Gaillard e poi soprattutto c'ha un suono c'ha un suono pazzesco facciandoci al discorso della salute fisica se uno ha una vita sana allunga anche la sua carriera eh certo puoi suonare e fare tourne anche a un'età un pochino più avanzata o sei una bestia cioè che c'hai le arterie ostruite tutto quanto ma comunque reggi perché sei una bestia oppure purtroppo io so io so che io lo so su me stesso se io non sto attento io non sono uno di quelli super forti super resistenti cioè io me cedo capito che ti voglio dire quindi cioè se non sto attento a fare un po' di palestra un po' di sport a cercare di mangiare sano bere poco non fumo non bevo io non sai che ho fatto un calcolo io non mi sono mai fatto una canna in vita mia mai cioè non so neanche il cazzo di sapore guarda che è una rarità ragazzi però nel senso che non come ti posso dire se io non ci sto attento so che io a me mi viene infarto veramente cioè nel senso io non è che sono uno di quelli che regge capito che fisicamente cioè accuso capito che ti voglio dire cioè se io sono tu pensa che se a 3-4 metri da me uno fuma io tossisco capito come quindi cioè non c'è niente da fare capito quindi ci devi se sei uno come me che soffre di queste cose cioè nel senso che non c'hai non sei una roccia e poi dopo finisci male capito come alla lunga finisci male allora parlando un po' dello stile Jeff Porcaro stile 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 come dicevo prima è particolarmente apprezzato per il suo gusto musicale per il suo utilizzo delle ghost note i suoi innumerevoli suoni di charleston cioè lui riesce a tirare fuori dal charleston dei suoni che io non ho mai sentito in vita mia no è pazzesco veramente una gamma di suoni enorme dicevo gli valsero il nome di Mr. Shuffle appunto la leggerezza hai visto quando suona nei video si vede la leggerezza proprio della mano destra sul charleston sembra che sembra che sta accarezzando la bacchetta invece c'ha una definizione un sync eh? il sync porcaro c'ha un sync tra cassa e charleston porca miseria è un suono ma perfetto ma di una cioè di una nitidezza di una pulizia di una tonalità non lo so come si può capire un suono un tocco irripetibile non è replicabile non è replicabile il tocco di Jack Porcaro lui dicevo volevo parlare proprio di questa cosa di questa sua tecnica particolare sulle ghost note che lui ha preso studiando a fondo il batterista Bernard Purdy si ah me lo dicevi prima il batterista di colore che suonava funk soprattutto e R&B ascoltandolo replicandolo suonando sui lui ha detto si metteva le cuffie con la discografia di Bernard Purdy ci suonava sopra si 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 ci suonava sopra per anni per anni questa cosa e ha detto che l'ispirazione di Rosanna su testuale domanda che gli hanno fatto l'ispirazione per il pattern di Rosanna gli è venuto mischiando appunto lo stile di Bernard Purdy quindi lo shuffle di Bernard Purdy con l'incisività rock di John Bonham quindi ha messo insieme queste due cose ci ha messo insieme la secondo me anche della tecnica di 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 che c'è nel suono di Jeff Porcaro ha messo insieme questa cosa meravigliosa che è venuta fuori questo questo shuffle famosissimo di Rosanna che è un argomento di studio beh no no cioè proprio cioè nel senso è proprio un modo cioè devi c'è da studiare tanto lì ok è una è un come dicevamo prima è una pietra miliare è una pietra miliare una di quelle canzoni che che un batterista deve studiare proprio per migliorare la sua tecnica quella ci può essere che ne so Black Dog si 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 sono quei ma ma anche perché questa è una cosa che voglio dire lui ha avuto una grande fortuna quella di suonare fin da subito con dei musicisti bravissimi lui è sempre stato circondato a partire dal padre no no ma non c'è bravissimi che lo hanno stimolato a migliorarsi sempre infatti che cosa io che cosa dico sempre visto il videocorso Ben Strategy io dico sempre ai batteristi cerca di fare in modo di entrare a far parte di un gruppetto di ragazzi anche da zero però che siano tutti più bravi di te che sappiano che siano bravi cioè tu devi sempre pensare che devi essere il peggiore perché in quel modo c'hai intorno a te vivi in un ambiente che ti stimola a salire di livello perché se tu non stai al passo e poi dopo magari loro cambiano batterista diciamo deve essere quella sana competizione con gli altri nel dire ah quel chitarrista è più bravo di me come chitarrista rispetto a quanto io lo sono come batterista quindi devo cercare di migliorare cioè essere circondato da gente più brava è un grande vantaggio è un grandissimo vantaggio è un grandissimo vantaggio grandissimo vantaggio e anche perché suonare con musicisti diciamo un po' scarsi ti demotiva secondo me ti demotiva no no tu devi sempre cercare questo è quello che dicevo nel videocorso è quello che cerco di fare io cioè se io mi chiamano a suonare come in una band anche diciamo una band che fa un tributo una cosa per fare anche club no? qui a Roma così io cerco di vedere quali sono una delle cose che cerco di fare è di essere sicuro che comunque all'interno della band l'equilibrio sia dove io comunque devo imparare qualcosa di nuovo capito? devo essere in grado di soddisfare le persone con le quali sto suonando cioè di dare quella cosa e dire ah sì facciamo così miglioriamo cioè deve essere ci deve essere quello scambio e quello ti fa crescere anche se devi fare una canzone che hai suonato diecimila volte però la rifai con quelle persone con quelle e quindi migliori perché c'è quell'interplay diverso eccetera quindi quella è una grande cosa che però si può fare cioè non è che lui è stato fortunato perché ovviamente però tutti noi lo possiamo fare tutti noi possiamo cercare band gruppi situazioni dove c'è gente più brava di noi dove cercare di entrare per migliorare capito come? sì 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 allora parlando un po' del suo kit lui ha fusti profondi così fusti molto profondi chiatti lassù così c'è l'altissimi molto inclinati inclinati tipi particolare ma io credo che sia io non ho mai avuto batterie con i fusti così profondi in verità però io credo che il fatto di tenere i piatti in verticale è perché dato che c'hai già i fusti è certo perché già c'hai i fusti così profondissimi e quindi già per averceli per esempio sopra la cassa devi alzare quindi devi suonare un po' più alto e quindi alla fine di conseguenza se i fusti ce li hai qua i piatti c'hai sopra cioè non c'hai niente da fare è solo usare tre tom e due timpani yes di più delle volte su batterie usa dei modelli top della Pearl ma ha suonato nei primi anni anche Yamaha sì e Slingerland i primi primi i primi primi più delle volte sono paste quasi sempre i modelli paste spesso modelli 2002 paste 2002 e niente i rullanti ha usato ha vari modelli di rullante rullante sempre per le Yamaha questi sono però lui ha detto che ha vari anche nell'intervista che ha fatto ha vari modelli di batteria in base alle persone con cui va a suonare al genere che vuole suonare sì 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 è professionale anche in quello sì quello è importante avere magari ma proprio perché cambiare lo strumento ti cambia il modo di suonare cioè se io suono con questa batteria qua magari ho in testa roba pop ok non dico per dire se uso la batteria che per esempio uso il setup come accordatura come suono come scelta dei rullanti dei piatti eccetera che uso con agua è diverso quindi suoni in un modo diverso suoni altre cose in un modo diverso però è proprio lo strumento che con quel sound con quella cosa ti suggerisce proprio di suonare in modo diverso e anche posizionare gli strumenti i tamburi in un modo diverso pop per esempio è più una batteria classica quindi due tom timpano rullante al centro un po' alto così quando suona roba per esempio afro più basso tutto un po' più basso tutto più giù capito quindi è proprio anche posizionare lo strumento in modo diverso ti aiuta a fraseggiare in modo diverso ok da pensare in modo diverso Jeff Porcaro lo dice proprio in un'intervista di un link che voglio consigliare che si chiama Jeff Porcaro c'è solo da Jeff Porcaro 1986 sottotitolato in italiano e quindi metti sub ita sub ita nella cosa di youtube tre quarti d'ora che sembra praticamente come una conferenza stampa fatta da lui cioè Jeff Porcaro dietro la batteria e tu gli fanno le domande altissimi e tutta gente dietro che gli fa delle domande proprio con i microfoni e lui risponde in maniera approfondita anche a temi importanti cioè si 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 io l'ho seguito con molto interesse lui parla della batteria a 360 gradi parla sicuramente parla anche dei fonici bravo parla della musica in verità parla della musica secondo me parla della musica in generale cioè nel senso che non me la voglio andare a vedere comunque ricordo a tutti quanti ricordo a tutti quanti che questi video che citiamo li postiamo dentro la playlist che si chiama Jeff Porcaro che adesso andiamo a creare appositamente che trovate nella descrizione del video quindi qui sotto c'è scritto accedi alla playlist se cliccate si aprirà una playlist con tutti i video che noi abbiamo raccolto di Jeff Porcaro su youtube così vi fate una cultura ci facciamo una cultura tutti quanti una cosa molto interessante che volevo dire quando lui parla dei fonici che ha avuto problemi proprio per via di questo suo stile pieno di ghost note pieno di sfumature che i fonici a volte non riescono a catturare e parla spesso dei gate che usano i fonici per chiudere i suoni cioè lui litiga con i fonici perché gli chiudono gli effetti e quindi non viene tutti quegli effettini che fa lui attenzione la spieghiamo perché drum start molta gente non sa di che cosa stiamo parlando allora il gate che cos'è il gate è un può essere sia analogico che digitale è un attrezzo che praticamente tu puoi sul quale tu imposti qual è la soglia minima di suono che praticamente che il mixer o che l'impianto fa passare cioè il microfono il suono lo cattura comunque solo che questo filo va a finire in un mixer che ha vari settaggi se tu metti la soglia del gate troppo alta il suono di quel microfono si comincerà a sentire solo che ne so da in una scala da 1 a 10 da 5 in su quindi se io parlo così non si sente se io parlo così lo apre il gate apre e il suono passa e quindi la gente lo sente con le ghost note è un casino perché se io se io setto il gate che parlo così ciao Marco come stai tutto bene e quello regola che a questo volume si deve sentire e se a basso si spegne cioè il microfono si sta si scollega appena io dico una cosa così non si sente più la voce e quindi quello è quello che fa il gate lo dico per i ragazzi che ci seguono che magari è la prima volta quindi è questo plug-in chiamiamolo così questo o plug-in o hardware che fa questa funzione infatti infatti consiglio che diciamo che quando si fanno i soundcheck soprattutto su rullante suonate sempre un po' di colpi piano e un po' di colpi forte e quando il fonico ci chiede alla fine del soundcheck quando ha fatto il cosiddetto line check cioè che ha controllato che tutti i microfoni funzionano lui alla fine ti dice fammi la gas fammi il rullante fammi i piatti fammi il tome fammi una cosa poi suona tutto quando suoni tutto io il consiglio che do è suona prima un po' piano poi un po' forte poi un po' piano così se lui si accorge che c'è qualche gate sbagliato te lo corregge in base a come stai suonando ok quindi questa è importante questa storia prendiamo spunto da Jeff Porcaro per fare questa cosa un altro paio di link che voglio dire ah si c'è il video che si chiama The Rosanna Half Time Shuffle si quello che lui lo spiega proprio come fa lo shuffle di Rosanna quindi ragazzi non io diciamo voglio voglio essere onesto non chiedete a noi di fare lo c'è il video di Jeff Porcaro che te lo spiego chi meglio di lui insomma vi approfittate di quello perché quello se l'ha inventato cioè nel senso è lui che lo ha reso famoso così sta cosa quindi se guardate quel video che vi postiamo è veramente istruttivo ecco poi Toto Live a Firenze ah quello è stupendo l'ho visto mazza bomba e poi voglio citare Toto Live a Castle Hall a Osaka in Giappone 1985 pensate quindi Toto Live in Giappone questi già 35 anni fa facevano i Mega tu mamma mia 85 mamma mia che spettacolo ok questo è questo è Jeff questo è Jeff altre accortezze ci aveva degli occhiali improbabili enormi sempre tutta la vita la portata fumava mentre suonava non ci potevo credere non so come cazzo non ci potevo credere cioè quello con la sigaretta a me il fumo negli occhi mentre suoni non vedi non vedi e non respiri e non respiri quindi suonava in apnea ma va beh geniale anche in questo suonava fumando non so come facesse veramente ma poi bandanone stile gli ultimi anni portava la bandana gli ultimi anni portava la bandana in testa sì molto figo oppure invece quando era un po' più giovane camice quelle camice con quelle camice con i floreali fighe che stile grandissimo io avrei pagato per conoscerlo facci quattro chiacchiere perché secondo me era un grande e allora abbiamo riassunto in questo video un pochino i punti salienti ecco della sua vita e speriamo come al solito di essere stati di stimolo per tutte quelle persone magari i più grandi sanno di chi stiamo parlando ma per i più giovani di avvicinarsi a questo mondo diciamo dei batteristi famosi che hanno reso famosa la batteria e la musica che loro hanno suonato in tutto il mondo quindi speriamo di essere arrivati a diciamo speriamo che questo video sia utile fatto un buon servizio di informazioni no sia divulgare perché purtroppo e ancora una volta è ricordato per lo shuffle non per la sua capacità di fare 6 miliardi di colpi al secondo ma per uno stile vedi quando si parla di Jeff Forcaro si parla di uno stile musicale particolare di questo modo di portare il groove ma non è che lui mentre fa lo shuffle facesse queste cose che uno dice come questi video che si vedono adesso di sta gente di questi pischelli che fanno lui era uno molto che diceva cioè faceva dei feel molto precisi molto fighi molto musicali ma non per questo complessi e quindi io lo dico sempre non mi stancherò mai di dirlo ricordatevi che suonare bene essere bravi batteristi non vuol dire saper fare gli esercizi a 300 all'ora ma significa saper suonare bene uno stile ma lui era il primo a dire io non ho una grande tecnica cioè io questo è scemo lui stesso dice Jeff Forcaro che ammette io non ho una grande tecnica io faccio quello che è giusto fare nelle canzoni non sono tanto bravo a usare il doppio pedale ha detto io perché con la a sincronizzare le due gambe ho qualche problema cioè se tu dici Jeff Forcaro porca miseria io che dovrei dire quindi è lui il primo a dire che la tecnica non è tutto non è tutto eh sì ma poi bisogna vedere di ogni tecnica c'è chi si rispecchia di più in una tecnica ci sono dei batteristi che secondo me sono nati per usare il doppio pedale altri no cioè è anche una questione proprio di cosa tua personale capito che ti voglio dire quindi ognuno ha le sue attitudini le sue cose che gli riescono meglio quelle che gli riescono peggio e bisogna anzi cercare di di riuscire sempre a migliorare le cose che ti vengono più facili perché comunque le migliori eccetera e di sapere quali sono i tuoi limiti per sapere dove devi andare a migliorare eccetera eccetera allora ci sono altre cose? niente io ho finito per quel che mi riguarda ok ok allora ragazzi lo ricordo a tutti quanti fataci sapere se abbiamo messo qualcosa se abbiamo scordato qualche cosa di importante se abbiamo fatto degli errori raccontando di Jeff Forcaro ditecelo e vi ricordo che da oggi lo facciamo insomma ogni volta magari mettiamo l'annuncio un po' prima oggi ci è venuta l'idea così e abbiamo cominciato così da oggi in poi ogni volta che facciamo storie di batteristi se vi siete iscritti alla community vi arriva la notifica o diciamo magari qualche giorno prima che il giorno tal dei tali faremo la registrazione della storia di batteristi con i prossimi episodi e se volete potete interagire in diretta e ci aiutate a fare meglio quello che facciamo ok allora batterista prossimo prossimo abbiamo una chicca parliamo di uno dei batteristi più distruttivi della storia della musica qualcuno già ha capito chi è? Kate Moon ah Kate Moon voglio parlare di Kate Moon che spacca tutto tutti i batteristi è un amitardo dinamità ok 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 Kate Moon grande e allora ragazzi vi ricordo che questi video li trovate sul sito tramstart.com trovate il link alla playlist del batterista che si analizza di video in video all'interno delle descrizioni del video insieme a tutti quanti gli altri link vari e se vi iscrivete alla community qui su facebook quindi sempre nella descrizione se state vedendo questo video su youtube nella descrizione di questo video trovate il link della community facebook richiedete l'accesso gratuito ve lo approviamo nel giro di poche ore e da quel momento in poi tutto quello che succede le live sulla community se volete scrivere direttamente a me a Marco insomma a tutti gli altri ragazzi della community potete farlo diciamo è una specie di forum di discussione insomma così e niente ci si vede in giro ci si vede in giro va bene? assolutamente zio ti ringrazio alla prossima è stato un disonore è sempre è stato un disonore come al solito ci vediamo alla prossima alla prossima con Kate Moon ciao